Musica Rieccoci insieme cari telespettatori, come ogni venerdì ci dedichiamo ai pensionati e pensionandi ma non soltanto perché parliamo quindi di situazioni pensionistiche, di prospettive presenti e future, leggi di bilancio che è uscita, promesse, vedremo che cosa si sta maturando, quali sono anche le richieste del sindacato ma anche di pensionandi, cioè di persone che un domani, si spera se non succede niente di grave, in pensione ci dovranno andare. Ma come? In che condizioni? Quali sono anche i presupposti? Cosa è bene fare o non fare? Insomma ci sono tanti anche consigli tecnici e allora per parlare di questo abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Antonella Franceschin che è direttrice del patronato Inca CGL di Padova, ben arrivata qui con noi. Buongiorno a tutti. Allora abbiamo il piacere di averla qua direttamente in studio quindi avremo modo anche di approfondire ancora in questioni tecniche potete pure fare le domande con sms e vediamo di rispondere. Basta che non siano casi specifici sennò vi conviene andare con tutti i vostri documenti presso le sedi Inca del CGL per risolvere le varie problematiche. Poi Alessia Conti dell'UDU, Unione degli Universitari di Padova, ben arrivata anche a lei. Buongiorno a tutte e tutti. Benissimo, allora io direi di incominciare proprio con l'UDU. Innanzitutto l'abbiamo detto anche in passato però forse non a sufficienza anche questo spazio normalmente dedicato a chi sta dalla parte opposta quindi non chi si affaccia al mondo del lavoro ma chi lo lascia, il mondo l'ha lasciato. Cos'è l'UDU? Sì, allora l'Unione degli Universitari è un'associazione studentesca di rappresentanza, ci occupiamo di diritti degli studenti e delle studentesse e quindi facciamo politica all'interno degli spazi universitari ma anche all'esterno. Ecco questo comporta non solo andarsi ad occupare magari del numero degli appelli, della gestione dell'università ma anche dei diritti delle studentesse e degli studenti che quell'università la occupano, la vivono e che vivono anche la città e delle generazioni che poi vivranno la città, lo Stato, la Regione. Per questa ragione facciamo politica e quindi a livello cittadino e anche regionale. Cosa vuol dire fare politica? Quando si sente, quando dicono fare politica dicono ah vabbè, ok, serve a ben poco. Invece no, voi concretamente quali sono le problematiche affrontate e con cui discutete con le istituzioni territoriali? Assolutamente, sicuramente il ruolo degli studenti e delle studentesse all'interno della città. Penso a una delle battaglie che abbiamo portato più in piazza in queste settimane, la rilevanza di studentesse e studenti nella legge di bilancio, nei fondi per il diritto allo studio. Ecco, noi siamo tornati in presenza, in massa, come ben dimostrano anche le notizie universitarie e siamo arrivati in città senza avere delle case in cui tornare, senza garanzie. E quello è stato un problema molto molto grosso. Assolutamente, assolutamente. Quello degli affitti, degli appartamenti che sono smaterializzati, non c'erano più, insomma, oppure a prezzi molto elevati. Esattamente, quello che è successo è proprio, abbiamo visto un incremento del costo degli affitti. Perché? Perché la disponibilità è diminuita anche, insomma, a causa del bonus 110, ad esempio. E quindi abbiamo lavorato molto sul diritto allo studio, siamo riusciti a concretizzare un bonus con l'università per studenti che sono stati in hotel e B&B. Siamo riusciti, ecco, a far stanziare dei fondi dal comune. E abbiamo portato queste richieste anche alla Regione. Ma abbiamo parlato di ambiente, in questo momento così importante, si è concluso da poco il G20, la COP26. Quindi abbiamo portato in piazza tutti quei temi che rendono la nostra generazione precaria. Perché è così. Noi abbiamo la prospettiva, ecco, di un futuro che non è sicuro, perché la crisi climatica incombe su tutti noi, di un mercato del lavoro che non è pronto ad accoglierci e ancora più avanti di un sistema pensionistico che la nostra prospettiva è che non sappiamo nemmeno se ci arriviamo alla pensione. Alcuni non sanno se arrivano al lavoro della loro vita e quindi figurarsi alla pensione. Ecco, da quel punto di vista avete mai discusso della... Vabbè, è vero che è fuori tempo perché state ancora cercando un lavoro. Però l'idea della pensione, vi siete fatti un po' un'idea di cosa potrebbe essere, di qualche cosa? Assolutamente. In realtà, per i giovani il tema della pensione è un tema lontano, questo va detto. Per fortuna. Ma proprio per questo, perché c'è lo scaglione del lavoro prima. Ecco, noi siamo una generazione che ha difficoltà ad immaginarsi con un contratto a tempo indeterminato, con una posizione stabile nel mondo lavorativo. Quindi parlare di pensione è ancora più lontano per noi. Ma è proprio per questo che dobbiamo creare e lavorare sugli spazi per discutere anche di pensioni. Ecco, perché è un tema che dobbiamo porci da studenti a sessi studenti. Ecco, noi, Unione degli Universitari, ma anche Rete degli Studenti Medi, lo abbiamo fatto. Lo abbiamo fatto anche grazie all'aiuto del Sindacato dei Pensionati Italiani. Abbiamo fatto proprio un momento di formazione e ci siamo accorti che le prospettive sul tema delle pensioni è abbastanza grave. Poi ci spiegherà meglio sicuramente, ma abbiamo il dovere di occuparci anche di questo. Perché una volta entrati nel mondo del lavoro sarà anche questo ad essere uno dei nostri... Adesso si tende a dire che i giovani che entrano nel mondo del lavoro dovrebbero farsi subito una pensione integrativa, un qualche cosa a livello privatistico, che ben venga, perché se lo fai subito meglio è. C'è l'altro aspetto, io lo sostengo sempre, che quando hai i primi stipendi, i primi guadagni, le prime entrate, a parte che non hanno continuità, ma non hai i soldi sufficienti per pensare anche di fare altri versamenti da altre parti, a meno che non ci siano i genitori che ti supportano. E quindi a volte è un controsenso, perché non c'è proprio la disponibilità economica. O ti crei famiglia e quindi investi tutto nella famiglia, nelle prospettive che puoi avere eventualmente, anche di una casa, eccetera, oppure pensi al tuo, quindi metti da parte i soldi, ti crei il fondo pensionistico, però stai a casa sostanzialmente, quindi non cresci più. Allora fino a 30 anni a casa avete mai valutato questa cosa, avete mai fatto delle considerazioni o tu hai mai fatto considerazioni quando viene detto questo? In realtà il tema qui credo che sia molto legato al lavoro, ai contratti anche che persone della mia età, della nostra generazione, a cui possono ambire. Ecco, sicuramente non sono retribuzioni che permettono di strutturare anche un percorso a lungo termine, per questo che magari si può pensare che non bastino i soldi per pensare a stanziarli in un futuro. Ecco, va detto che tutte quelle forme di contratto precarie non lo permettono, ecco io penso ad esempio a tutti quei lavori che danno così poco al lavoratore che non può pensare di farci qualcos'altro se non arrivarci a fine mese e questo per gli studenti è un tema importante perché noi magari studiamo e lavoriamo allo stesso tempo per mantenerci all'università, quindi per poter fare una vita universitaria, per poter studiare e arrivare ad un lavoro futuro magari più stabile, noi lavoriamo e quel lavoro che cosa ci permette di fare? Molto poco, giustamente, soltanto giustamente, non in questo senso ma condividendo anche tutte le posizioni degli studenti e delle studentesse che lavorano, si sostengono durante il percorso di studi. Di certo non è una vita facile, quindi parlare di prospettive future è complesso in questo contesto. Prospettive future complesse, perché abbiamo un sistema che ormai richiederebbe una costanza contributiva e costanza cospicua contributiva, cosa che allo stato attuale non è pensabile, no? Esattamente. Allora innanzitutto vorrei dire una cosa, ringrazio molto questo spazio dedicato ai giovani e alle pensioni perché è qualcosa che viene molto trascurato. Pensiamo sempre alla fine corsa di chi è in prossimità di raggiungere questo obiettivo e di tutte le tipologie di pensione che permettono di raggiungere poi la così agognata pensione, però stiamo pochissimo pensando ai giovani e alle loro prospettive future e ad un sistema pensionistico che garantisca anche a loro la possibilità di organizzare un futuro. Si ragiona veramente molto poco su questo, quindi mi auspico che innanzitutto venga data molta visibilità, che vengono fatti in molti programmi come questi dove si dà voce ai giovani, perché sentendo questo entusiasmo poi capisci che c'è anche chi poi il problema se lo pone, perché lei diceva, noi non pensiamo alla nostra vita pensionistica, al nostro futuro, e meno noi quando avevamo la tua età ci pensavamo, però c'erano condizioni che erano fondamentalmente diverse, c'era una prospettiva lavorativa, adesso il lavoro non c'è, c'è una disgregazione del lavoro, noi non pensavamo alla pensione, però avevamo un lavoro, avevamo la possibilità anche di scegliere di fare il nostro lavoro, chi ha vissuto negli anni 80-90 delle opportunità le ha avute, anche con una certa continuità, adesso ai giovani non viene data questa opportunità, quindi dovremmo studiare un sistema pensionistico che consenta di valutare le prospettive lavorative e poi con queste prospettive lavorative a quali opportunità di pensione si possono raggiungere, cosa si può raggiungere. Allora noi adesso abbiamo un sistema pensionistico che prevede appunto una continuità lavorativa, deve essere garantita, raggiungere i 41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi, senza porre limite di età e noi vediamo che l'età media, insomma si parte dai 58 ai 64-65 e poi c'è l'età della vecchiaia che subentra. Sono molte persone, vuol dire che hanno iniziato a lavorare molto presto e hanno avuto una continuità lavorativa costante. Sono molte ma non sono persone, ecco lei rappresenta gli studenti e io ribadisco perché per quanto gli anni passano mi ricordo benissimo quando si era studenti già la mia generazione finiva tardi, cioè l'università non si finiva così presto, cioè finiva tardi, finivi e la pratica che era richiesta se facevi degli studi professionali e quant'altro e poi entrare nel mondo del lavoro con un contratto, parliamone, parliamone. Sì, adesso tutto questo si complica molto di più, ma lo step successivo è una pensione di vecchiaia che comunque raggiungi ad una determinata età, quindi 67 anni e si presuppone, non serve avere un bagaglio contributivo di 42 anni, bastano 20 anni però lo puoi raggiungere. Il sistema contributivo che è la grande rivoluzione, perché noi ci concentriamo sempre sulla Fornero, che dal 2012 è sconvolto la vita di tutti, ma è grande, sconvolgimento. Vediamo la prima slide, pensioni oggi e domani, così ci dà di supporto e poi appunto eccola qua, che questo è il tema che andiamo ad affrontare in collaborazione con l'Inca e poi la prima slide, pensioni 2021 e 2022, così vediamo, eccola qua, cosa stiamo parlando. Quello di cui parlavo prima, qui noi abbiamo inserito un po' tutti i sistemi, però poi ci concentriamo su alcuni punti, perché poi alcune sono soluzioni che arrivi in determinate condizioni e appunto, come dicevi prima, se ci sono poi condizioni specifiche, è bene rivolgersi ad uno sportello e analizzare la propria posizione, quindi ci sono anche delle variabili che possono essere introdotte. Diciamo, le pensioni di riferimento sono la pensione anticipata e la pensione di vecchiaia, in questo momento quella che si raggiunge a 67 anni di età con i 20 anni di contributi. Questa si può raggiungere e con qualsiasi importo lavorativo puoi accedere a questo step. Qual è la differenza con il sistema contributivo? Introdotto nel 95 e questo, questo, vorrei dire qualcosa che non è mai stato preso in considerazione, non è mai stato discusso abbastanza in questi anni e lo si trova adesso in tutta la sua drammaticità, ti consente di arrivare a questo step, ma introduce un elemento nuovo che è quello di avere anche un minimo contributo, un minimo di importo, di pensione, per cui chi potrà accedere alla pensione di vecchiaia con i 67 anni, che poi c'è questo meccanismo dell'aspettativa di vita per cui ogni due anni viene fatta una rivalutazione, questi 67 per loro diventeranno tanti, ma anche se ho 20 anni, ma anche se ho l'età della vecchiaia, ma se non raggiungo un minimo pensionistico che ad oggi sono circa 700 euro o 1,5 l'importo dell'assegno sociale, non vai a quell'età. Lo step successivo sarà a 71 anni con almeno 5 anni con qualsiasi importo. quel qualsiasi importo vuol dire anche 50 euro, perché se non ho una vita continuativa lavorativa, se ho una disgregazione dei contributi versati, perché ho più esperienze lavorative su casse professionali, verso la gestione separata, pubblico dipendente, c'è la facoltà del cumulo, però non sempre posso mettere insieme tutto. No, no, ma è verissimo. Ecco, mi interrompo un attimo, questo è un argomento purtroppo molto importante e anche molto delicato. Torniamo sul punto, tra pochi secondi c'è la pubblicità, se avete bisogno di scrivere i messaggi fatelo pure, li leggiamo dopo, tra poco.